E' un giorno di festa qui a Serino, frazione Ponte, casa di Fabiano Parisi, che ieri ha esordito con la nazionale Under 21 a Frosinone, seguito da tantissime persone, amici, parenti, da tutta la sua famiglia. Un orgoglio per Serino ma per tutta l'Irpinia. Salvatore Aurilla è il suo fotografo ufficiale. Nello studio a due passi dal negozio di famiglia Charles, che porta il nome del papà di Fabiano scompasso lo scorso 8 settembre, ci sono cimeli storici come il primo biglietto della sfida tra Velino e Alba Longa, che ha segnato l'esordio di Parisi con i lupi, ed una maglietta autografata. Salvatore, tu sei lo storico fotografo di Fabiano Parisi. Ieri sei stato a Frosinone. Veramente un'emozione fortissima per voi che eravate lì ma anche per noi. Certo, è stata una cosa bellissima. Non lo so, non so descrivere l'emozione che c'è stata perché veramente non doveva dimostrare quello che era, perché Fabiano è il numero uno per me e penso per tutti quanti. È stata una bella emozione, una bella esperienza. Il suo studio fotografico c'è, il biglietto della prima partita, la maglietta, poi c'è tante immagini, non ce l'ho qua, ce l'ho a casa. Poi il ricordo del papà è una cosa che ieri sicuramente sarebbe stato qualcosa di emozionante se c'era anche lui. Tecnicamente stai imparando ancora molto di più e ieri mi è piaciuto l'esordio nazionale perché ha dimostrato carattere e personalità. Infatti è cambiata proprio la partita. Il suo procuratore, Mario Giuffredi, dice che è una macchina da guerra, Fabiano, perché è mentalizzato. Si vede, si vede, si vede. Quando è l'ultima volta che l'ha visto? Quasi una settimana fa. E che le ha detto? Devo giocare. Devo giocare, voleva esordire, non vedeva l'ora di esordire con l'Under 21. E allora forza Fabiano sempre. Si, si, forza Fabiano. Persino il cane di Fabiano, Charlie, sa che c'è un motivo in più per essere allegri. D'altronde che il pendolino di Serino fosse speciale lo sapevano tutti, bastava guardarlo giocare da piccolo. L'ho seguito da bambino, lui quando giocava lo metteva nel campetto e quindi scartava e andava a segnare da su. Quindi ci ho sempre creduto. Infatti ieri sono andato a vedere la partita a Frosinone e mi sono emozionato. Sai che un giorno non ripercora le orme di Nando De Napoli, è quello che ci auguriamo tutti. Eh, sì, 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 magari. Anche il ruolo dovrebbe essere quasi uguale, quindi lui è terzino-sinistro, così. Però le qualità ce l'ha.